Caserta TV Luna Caserta TV Luna Terza edizione di Ragazza Weekend Dance e come tradizione vuole siamo nel cortile antistante TV Luna che ci ospita ogni anno. Al mio fianco ho Raffaele, uno dei nostri sponsor, una scuola di formazione, tanti corsi, tante discipline ma di tutto ciò noi non ne vogliamo parlare, giusto Raffaele? Abbiamo parlato ormai in tutte le tappe, noi siamo Astofram, la nostra scuola di formazione, se avete bisogno di fare formazione venite da noi e ovviamente la formazione di qualità. Ringraziamo naturalmente la tua presenza con Astofram ormai per anche questa edizione di Ragazza Weekend Dance, ci affianchi con il tuo marchio, con quello che è la qualità dei tuoi corsi. Stiamo assistendo ad un concorso di bellezza, sicuramente la bellezza è importante ma penso che sia il 50% di quello che la partecipante poi dovrà avere nella sua carriera lavorativa. Noi facciamo tanto orientamento ai giovani e il consiglio da dare a queste splendide ragazze che vedremo sfilare sicuramente abbinare tanta formazione. Molte sceglieranno lo spettacolo, molto il teatro, la moda e il cinema in genere, sicuramente corsi di portamento, corsi di edizione e corsi di comunicazione in genere. Quindi fare tanta formazione, farla bene, scegliere delle scuole di qualità per poter poi dire ecco abbiamo raggiunto la competenza e oltre la bellezza abbiamo anche un curriculum serio da poter spendere. Grazie per la visione Al mio fianco due personaggi che hanno anche loro sposato quello che è il progetto di Ragazza Weekend Dance, al mio fianco Antonio e Andrea. Uno dei proprietari, buonasera Antonio, uno dei proprietari di Birent, sponsor di quest'anno di Ragazza Weekend Dance, di cosa si occupa Birent? Birent è una società di noleggio nata nel 2008, fondata da mio padre Enzo Brasiello, che si occupa di autonoleggio a lungo termine, breve termine, nonché facciamo manutenzione con la Brasiello Car Service a Sant'Antimo. Siamo stati di noleggio che occupa sul territorio nazionale, comunque siamo a Milano, in via Lecorsica 21 Linate, siamo a via Caracciolo 10, a Napoli, siamo a Sant'Antimo, ci sono nuove aperture a Civitavecchia, al porto di Civitavecchia, a Palermo e a Forte dei Marmi. Quindi comunque uno degli orgogli napoletani, perché siete partiti da Sant'Antimo e vi siete espansi in tutta Italia, quindi vi state espandendo ancora di più? Chiaramente sì, è una società che punta molto sui giovani. E questo è importante. Andrea, responsabile tecnico della Birent, parliamo dei servizi, tutto quello che fa la Birent. Sì, diciamo buonasera a tutti, innanzitutto siamo lieti di essere vostri partner per questa esperienza. Diciamo che la Birent praticamente si occupa di noleggio a breve e lungo termine, a 360 gradi. Siamo in forte espansione già da qualche anno e come diceva Antonio abbiamo aperto diverse strutture in tutta Italia. La Birent si occupa di noleggio, poi viene associata dalla Brasiello Car Service che è un'altra nostra società e si occupa di assistenza a 360 gradi per quanto riguarda l'autovettura. Quindi praticamente noi riusciamo a chiudere il cerchio, diamo autovetture e forniamo assistenza. Quindi per coloro che hanno un'autovettura o se non ce l'hanno possono andare da Birent per noleggiarla. Nel caso ce l'hanno che hanno fatto l'errore di acquistarla, manutenzione con la Brasiello, quindi avete risolto tutti i vostri problemi. Che cosa volete di più? Niente di più. Niente di più. Niente di più. Niente di più. Il cortile antistante è la sede di TV Luna, questa televisione storica e come ormai abitudine sono venuti a trovarci i Mr. Hyde, Ludo e Rudy. Io voglio parlare con Rudy. Ok. Parliamo sempre con Ludo. Non lo escludiamo, dai facciamo un po' per uno. Allora un saluto chiaramente a tutti gli amici di Wuken Dance, a te, sempre un piacere essere qui con voi, come dicevi prima in questa splendida location di TV Luna. Cosa ci farete ascoltare? Non lo sappiamo, ti ricordo la verità, però stavo pensando in tempo reale di farvi ascoltare il pezzo con gli audio due e penso a te, la famosa canzone di Lucio Battisti. E' un nostro, diciamo, omaggio al grandissimo Lucio Battisti, sperando che gli sia piaciuta questa versione. Il progetto nuovo di Mr. Hyde, come si intitola innanzitutto? Il titolo dovrebbe, lo sveliamo, dovrebbe essere LR, che diciamo è un acronimo sia dei nostri nomi che, sai, del Left and Right, quindi ci sembrava un titolo appropriato per il nuovo album, che prevederà nuove collaborazioni più pezzi inediti cantati soltanto da noi. Io invece farò un disco che si chiamerà LM. LM? Live o Mano. Ah, Live o Mano è molto bene, credevo fosse una marca di un bacchetto di sigarette. No, no, no. E' un altro ricordo mio, amore, quanto male ancora mi farà. L'amore lascia segni sul mio cuore, neanche il vento li cancellerà. Avrei voluto dirti che ti amo, ma non l'ho fatto mai. Avrei potuto tornare indietro adesso, non farò più lo stesso. Non so con chi adesso sarai, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. Le immagini che state guardando sono le immagini di Ragazza Weekend Dance. Allora, per tutti coloro che vorrebbero intraprendere questa straordinaria esperienza, oppure vorrebbero affacciarsi al mondo dello spettacolo, è facilissimo. Mandate un'email all'indirizzo che scorre qui sotto la mia pancia e iscrivetevi immediatamente all'unico concorso che vi darà la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo lavorando. Perché il premio finale di questo concorso è proprio un contratto di lavoro con Weekend Dance. Allora, che cosa state aspettando? Iscrivetevi immediatamente. Allora, che cosa stai pensando? Allora, che cosa stai pensando? Come potrete vedere da questa fantastica modella che ha al mio fianco, che si chiama? Debora. Buonasera, Debora. Ben arrivata. Ben arrivata. Bel sorriso, bella lei, ma bella anche questa pelliccia che indossa. Quando si parla di pellicce qui a Weekend Dance si parla di Alfrus, ossia di Alberto Langello. Buonasera Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. Rinnoviamo quello che è il messaggio della pellicceria Alfrus. Innanzitutto artigianato puro. Artigianato puro, dalle pelli, dalla scelta delle pelli al modello finale, alle fodere, bottoni a tutto. Un capo del genere deve essere curato nei minimi particolari. Perché siamo noi che diamo la garanzia del capo al nostro sito, anche dopo aver acquistato la pelliccia, potete venire in qualsiasi momento che noi siamo a disposizione del cliente. In caso di custodia, in caso di ripulitura, in caso di tutto siamo... Quindi il cliente viene assistito nei minimi particolari. Questa sera cosa vedremo? Abbiamo visto vari... nelle altre due tappe precedenti abbiamo visto vari modelli. Questa sera cosa... Invece questa sera vedremo un po' di elegante per questo evento che si fa qui a TV Luna, una rete televisiva famosa qua in Campania. Quindi mi sono improntato su questa sfilata così. Iniziamo! Iniziamo! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti